Buongiorno a tutti, siamo in un posto meraviglioso, siamo sotto la piramide, i piedi della piramide Cesti a Testaccio. Sopra di noi c'è il cimitero a Cattolico e qui questa è la casa dei gatti del cimitero. C'è un mercatino, una festa, una riunione. Si possono aiutare, venirli a trovare, venirli a conoscere perché i gatti del cimitero, i gatti della piramide Cesti sono famosi in tutta Roma, in tutto il Lazio, forse in tutto il mondo, chi lo sa. Sono felice di salutarvi, di salutare il mondo insieme, di salutare Licia. Ciao Licia, so che te ami gatti, che verrai qui, che vieni, che lo frequenti e quindi viva i gatti, viva i posti che ci mettono in comunicazione con la profondità della vita e dell'essere umani, migliori. E viva questi meravigliosi, questi meravigliosi esteri misteriosi, di cui ho appena letto delle poesie, cantati dai poeti, che ci vengano a trovare di giorno, di notte e in sogno. Ciao Licia, ciao Mondo Insieme. Siamo qui a Piramide, presso la colonia filina dei gatti della piramide. Siamo qui come sempre, come ogni anno, per raccogli i fondi per la nostra colonia. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo fino alle 5 di oggi con il nostro mercatino, mentre gli altri giorni siamo sempre aperti dalle 2 alle 4. Il mondo insieme è qui, oggi. Grazie.